Allora, siamo qui con il ministro Agostinani che è in partito del Quarrata. Il ministro finale Amaro, che comunque, come hai detto, negli scorsi giorni non intacca minimamente il livello della stagione del Quarrata. Però, ovviamente, un po' di certezza c'è. È evidente. Anche perché credo che abbiamo perso la nostra portata. In queste partite gli episodi sono determinanti e noi nei primi 10 minuti siamo arrivati qualche volta a poter fare gol. Con facilità estrema. In queste partite, quando c'è da fare gol, bisogna fare gol. Siamo arrivati a tirare quattro volte, un paio di volte anche a botta sicura. Ci è mancato avere l'Artiveria. Poi, la prima volta, la notte, hanno tirato. La prima volta hanno passato la metà al campo. Prendi gol, su punizione. Poi, nell'unio, tirarono porta. Poi ce n'è stato un altro il secondo tempo, quando ci hanno fatto un po' più piede. Quindi, diciamo che... Mi sono rivisto poi i fantasmi tre anni fa. Probabilmente allora qualcuno a Scaramanti... Io non lo ero. Probabilmente a Santa Croce non ci torni. Oppure devi vincere il campionato direttamente. L'ho detto a battuta. C'erano un paio di direttori sportivi delle squadre che si ritroverà un altro anno. Li ho detto a tutti. Guardate, è peggio per voi. Perché un altro anno ci sarà anche inquadrato. Quindi, chiaramente, si cercava di sgrammatizzare. La partita è andata così. Credo che... Si poteva tranquillamente portare in fondo. Merito a loro. Hanno sfruttato quei due episodi il primo tempo. Non siamo stati capaci di rimontare. Oltretutto oggi è stato molto caldo. Qualche giocatore è stato un po' al di sotto della norma. Quindi questo magari fatto sì che nessun tempo fossimo poco pericolosi anche noi. E' nulla. Ci rimetteremo a lavorare. Chiaramente quando perdiamo la finale, siamo arrivati fino al 12 giugno, l'ammarico rimane. Però non si può non dire quello che ci ha fatto in tutto l'anno. Oggi sarebbe stata la Filippina, è stata per loro. Tanto sarebbe una vincita e una perde. Purtroppo abbiamo perduto noi. Mi dispiace perché è la terza finale in quattro anni e perde. Gli ultimi tre campionati sono arrivati tre volte qua e tre volte l'ho persa. E quindi, insomma, è vero che è un merito anche arrivarci. Però quando siamo lì capiremo anche continuare a vincere. Quindi nulla. Ora ci ritroveremo. Si riparte. Se poi ci sarà una speranza di ripescaggio ci faremo a trovare pronti. Probabilmente non ci sarà. Ma se ci sarà la società è pronta, noi siamo pronti. E ora, per ora, fino a che non avremo altre notizie, sappiamo che il nostro campionato è la promozione e si ricomincerà a lavorare per un altro anno. Grazie. 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 Grazie.